Comunicazione non verbale Questo che può sembrare un segnale così fatto per caso In realtà questi segnali sono un vero e proprio codice di comunicazione Nel mio lavoro il caso non esiste Nella comunicazione nulla viene per caso Anche se una persona a volte dice Ah ma io mi sono toccato il naso perché avevo prurito In realtà questo è un segnale molto particolare Per esempio nel non verbale uno scarico tensionale negativo Bisogna immaginare come se il volto sia come il tiro al bersaglio Dove la parte centrale sia la parte che ha un valore più alto 100% E quando noi durante una comunicazione per esempio Tendiamo a toccarci il naso Per esempio dico ah è stata un'ottima vacanza È una bella persona e mi tocco il naso in questo modo In realtà questo è uno scarico tensione negativo Vuol dire che c'è un'incongruenza in quello che sto dicendo Chiaramente la comunicazione non verbale È come dire un linguaggio molto complesso È fatto di tantissimi segnali A volte una persona va in avanti col corpo O va indietro E può sembrare qualcosa di casuale Per esempio sto dicendo Ah quello che dici mi interessa E vado in avanti Questo è nel linguaggio dell'esempio della postura Della prossemica È un sì Andare in avanti tendenzialmente è un sì Quando invece dico Ah quello che hai fatto è molto interessante Vado indietro col corpo È come se invece stessi prendendo le distanze Quindi mi sto allontanando da quella persona Quindi il linguaggio non verbale è qualcosa che va letto in tempo reale È qualcosa che va combinato contestualmente Immediatamente con le parole Quindi diventa molto interessante Ci sono per esempio delle serie tv come Lie to me Lie to me con Tim Roth È molto interessante perché Ci fa vedere come sia possibile Osservando bene una persona Capire se questa persona ci sta mentendo Infatti col non verbale è possibile capirlo Sarebbe interessante usarlo su per esempio i nostri politici Quando ci promettono determinate cose E ora scherzi a parte Possiamo usarlo comunque Nella comunicazione quotidiana di tutti i giorni Capire se chi sta dall'altra parte ci sta dicendo la verità Oppure ci sta mentendo Anche se a volte Il più delle volte La menzogna non è voluta Più che altro è dobbiamo sempre tener conto che noi siamo fatti di due parti Una parte logica Una parte razionale Quella con cui noi articoliamo la parola Quella che crediamo che sia la parte più importante E poi invece c'è una parte che noi non prendiamo in considerazione che è il nostro inconscio La nostra parte emozionale che invece è la parte più importante della comunicazione A volte noi razionalmente siamo convinti di determinate cose Certo domani ti verrò a prendere e lo diciamo con convinzione Però sarebbe interessante notare cosa dice il mio inconscio Per esempio Certo domani ti verrò a prendere Faccio questo tipo di segnale Questo ripeto è uno scarico tensionale negativo Probabilmente razionalmente sono convinto di poterti venire a prendere Ma il mio inconscio mi ha detto di no Perché l'inconscio che in realtà ha tutto sotto controllo Sa già che non potrò farlo Quindi è molto importante imparare a decodificare in tempo reale tutti questi segnali E quindi questo ci aiuterà sicuramente a migliorare la qualità della nostra comunicazione con gli altri E soprattutto capire le reali intenzioni delle persone che abbiamo di fronte E infine può essere uno strumento molto utile per capire anche se stessi Perché per esempio se io dico Che bello sono proprio contento di fare questa cosa con te E ne sono convinto e vado anche in avanti col corpo Questo è sicuramente un ottimo segnale Se invece dico con convinzione Ah che bello fare questa cosa con te e vado indietro Dovrei un attimo fermarmi e capire Che probabilmente il mio inconscio non è d'accordo Quindi farmi un po' di autoanalisi E capire quello che voglio davvero nella mia esistenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti